Non faccio che riscrivere le stesse cose. Ma alla fine i sei ma non contano, ho sbaglio. Niente conta a questo mondo se Tessa non c'è. Spero stia andando avanti con il nuovo libro. Muoiono tutti dalla voglia di leggerlo. Non posso rischiare che la gente si dimentichi di te. Non si mette fretta alla grandezza. Si mette avendo dato 250.000 dollari di anticipo. Ho visto Natalie a Natale. Mi ha chiesto di te. Vivi a Lisbona? Lisbona? Ma che ci fai qui? Mi faccio perdonare. Devi andartene via. Vorrei poter tornare indietro. Io ho voltato pagina, fallo anche tu. Lo so chi sei. E se fosse per me, marciresti in una cella. Ho sempre paura di fallire. E così finisco per rovinare tutto. Senza di lei non avrei avuto il libro. Ma senza il libro almeno avrei ancora lei. Non sono pronto a voltare pagina. Non puoi parlare di noi due in questo modo. Non posso pensare di vivere un solo momento in più senza te accanto, Tessa. Mi hai fatto veramente incazzare. Senza di te resto soltanto io. A pezzi. Perso. E solo. E' facile pensare che la nostra capacità di amare sia limitata. Soprattutto se hai il cuore a pezzi. Ma credimi, piano piano, alla fine guarirei. Non sai quanto sei fortunato a passare il resto della vita con l'altra metà della tua anima. Finché non passi la vita senza di lei. Ho letto il tuo libro. Quindi che è successo, Tessa?